Noi osserviamo nel panorama del nostro pianeta che ogni giorno un pezzo se ne va, un pezzetto se ne va, ma il pianeta è anche Verona, a Verona ogni giorno un pezzetto se ne va e non viene sostituito, quello che è perso dal punto di vista ambientale non si può ricostituire, per cui è da meditare attentamente quando si interviene sull'ambiente per esaminare se è proprio necessario intervenire e ridurre ancora quelle che sono le possibilità dell'ambiente di stare accanto a noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.